Ciao a tutti, sono Galfred Spirbation. Questa nuova rubrica si chiamerà Vita da Pub. Perché? Perché si va a simulare con scene di fantasia, o quasi, delle scene di vita vissute al pub. Se vi sentite offesi da queste scenette, beh, non resta che berci su e iscriversi al mio canale. Ciao. Oh, ciao. Sono fuori. Posso farti l'ordinazione giusto per farti stare tranquillo e non farti arrivare fino fuori? Certamente, nessun problema. Posso già farti qualcosa nel mentre? Sì, 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 sì. Guarda, ho una bitter per favore. Va benissimo. Te la porto fuori allora. Grazie. Senti, la riusciresti, non so, a fare un'altra bitter? Ma, sì, certamente, è tempo di finire questa. Spetto fuori, giusto? Certamente, nessun problema. C***o, ma non potevo ordinarla prima. Senti, non è che me lo fai anche un panardo, non so, il numero due. Certo, e quanti te ne posso fare? Ma, guarda, fa bene, fa bene due. Però, senti, mi riesci a portare tutto assieme? Che prima ho dovuto aspettare, mi è arrivato un po' alla volta, cioè, ho dovuto aspettare. Pigli per il c***o? Se magari, guarda, mi fate l'ordinazione, diciamo, tutte e due allo stesso tempo, sarebbe molto gradito, per favore. Ringrazio Vice Birra per la disponibilità, per le riprese di queste puntate di Vita da Pub. E vi invito, come al solito, ad iscrivervi al mio canale YouTube, di seguire tutte le mie pagine social, di seguire Obiettivo Film. Attivate la campanella e ci vediamo nei prossimi video. Grazie a tutti.